Poggio Reale è una città dentro la città, 2556 detenuti in una struttura da 1300 dove uno dei reparti, il Genova, al momento è chiuso per ristrutturazioni. Le voci dei detenuti riempiono i corridoi, in celle che ne potrebbero accogliere la metà ci sono 8, 9, 10 detenuti. Come vediamo entrando nel reparto Salerno, da dove inizia il nostro viaggio in una delle case circondariali più difficili d'Italia. Negli anni 80, racconto e personale andava anche peggio e di detenuti ce n'erano ben oltre 3.000. Ma la fama di Poggio Reale racconta anche di scelle con 15 o 18 detenuti in reparti come Napoli o Lavellino. Cerchiamo di capire meglio. La direttrice è arrivata a marzo del 2012 ma con anni di esperienza nell'istituto non ha dubbi. Situazioni del genere a Poggio Reale oggi non esistono. Vorremmo verificare con i nostri occhi telecamera la mano ma non è possibile, l'autorizzazione parla chiaro, sono i direttori ad avere l'ultima parola sul nostro percorso. Il giorno dopo la nostra visita del 13 settembre però i detenuti del Braccio Avellino diffondono una lettera aperta alle istituzioni. Raccontano di essere ammassati fino a 18 in cella, in condizioni igieniche estreme, le stesse che verifichiamo anche noi. Raccontano del 60% di detenuti affetti da epatite C, farmaci che scarseggiano visite specialistiche definite come un miraggio. Qui non ci sono sale operatorie, le due che c'erano sono state chiuse dalla ASL. All'interno restano solo gli ambulatori che chiediamo senza successo di visitare, dove la maggior parte dei medici specialisti è di turno una volta a settimana. La legge prevede che le docce siano tutte all'interno delle celle, ma le strutture sono quelle che sono, usurate, spesso fatiscenti, vecchie, come nel caso di Poggio Reale. La mancanza di fondi fa il resto e così, come vediamo con i nostri occhi, la doccia in cella è un lusso per pochi. Gli altri devono farsi bastare quelle comuni, monoblocchi da quattro vani per oltre 100 detenuti in media per piano. Così a Poggio Reale i turni diventano una costante della vita quotidiana. La doccia che non ce l'ha in cella la fa due volte a settimana. Per il resto, nelle celle c'è solo il vano bagno con i sanitari, il lavandino usato anche per cucinare, le mensole con i fornelletti da campeggio. Il tutto in uno spazio dove si riesce a passare uno alla volta. Quello che serve per l'igiene personale, carta igienica, sapone e dentifricio, arriva la prima volta in dotazione all'ingresso. Finita la scorta dovrebbe essere il carcere a rifornirla, ma di fondi ce ne sono sempre meno, quindi bisogna per lo più provvedere da sé, comprando quanto serve con il sopravvitto. Un problema che rischia di diventare una vera emergenza, perché qui la povertà aumenta ritmi molto più sostenuti che fuori, e sempre più detenuti non possono permettersi i beni di prima necessità. O perché fuori i famiglie e amici hanno poche risorse, o perché, come succede a molti stranieri, fuori dal carcere non c'è nessuno. L'unica è l'aiuto esterno di Caritas e volontari che scaricano di continuo camion pieni di aiuti. Cerchiamo anche di capire cosa ci sia, oltre la cella a Poggio Reale. Per l'aria si fanno i turni, perché alcuni reparti con 400 persone hanno un solo passeggio. Quindi alla fine le ore d'aria sono solo due, una di mattina e una di pomeriggio. Il lavoro è poco, pochissimo, lavorano in 210, nessuno all'esterno del carcere. Dentro si sta in lavanderia, molti sono scopini. La paga è bassa, pochi euro all'ora, anche perché qui le cooperative napoletane sono sempre più strette dalla crisi e le istituzioni arrancano. Gli educatori a disposizione in istituto sono in tutto 19 e mancano anche gli spazi comuni, perché quelle che erano le vecchie aule di socialità sono state inghiottite dal sovraffollamento e trasformate in celle. Al di là dei colloqui e della scuola, ci sono le cosiddette attività trattamentali, i corsi di lettura, il cineforum, il calcetto, a breve anche il basket. La sproporzione però è impietosa, perché i posti sono 15-20 per corso. Si accede dunque con il contagocce, l'unica è fare richiesta e sperare. Grazie. 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 Grazie.